Provo gli smalti che mi ha regalato Lara per il mio compleanno. Ciao, sono Barbara e oggi Lyle Routine. Ho le unghie devastate, sono orribili, quindi è il momento di cambiare tutto così provo questi smaltini nuovi. Allora, Lara mi ha preso questi tre colori, sono tutti molto belli, questo rosso mi attira molto, ma oggi io andrei su rosa e brillantini. Limatina, ok. Mettiamo un tappetino per non sporcare e passiamo. Il rosa è in genere uno di quei colori pastellosi tanto belli, ma che fanno quelle odiose righette. Per evitarlo io in genere faccio il primo strato molto sottile e il secondo più corposo, ma devo dire che questo di Essence mi sembra piuttosto omogeneo. Ok, lascio asciugare il primo step, se non appiccicano posso passare al secondo. Il secondo un po' più corposo, direi che la copertura è ottimale. Passiamo ai brillantini, li stenderò soltanto sull'anulare. L'effetto è soft e mi piace parecchio. E ora il top coat di Kargi perché mi rende le unghie immortali per 10 giorni. Ok, il risultato mi piace, se piace anche a te, beh, lascia like se ti va, seguimi per altri video e ci vediamo presto. Ciao ciao!